inaspettato colpo di scena ad affari tuoi dove nella puntata del 24 ottobre i concorrenti dell'umbria si sono fidanzati con stefano de martino incaricato di consegnare gli anelli sara affettuosamente chiamata saretta conturbante per i suoi coloratissimi copricapi era accompagnata nel gioco dal compagno dario con cui è da due anni e mezzo la fortuna sembrava non essere dalla loro parte poiché i due cominciano subito a perdere i pacchi con le cifre più importanti fino a quando arriva la sorpresa a un certo punto stefano de martino sussurra qualcosa all'orecchio di sara poi prende una scatola di affari tuoi dalle dimensioni più piccole del solito e da questa estrae un anello per sara con l'anello in mano la concorrente fa la proposta al compagno amore della mia vita ho pensato tanto a questa partita a come avrei voluto dirti questa cosa non ci sono parole per descrivere tutto quello che provo ogni giorno con te voglio raccontare una favola ai nostri figli che sorriveranno e voglio scrivere con te la pagina più bella il nostro matrimonio Dario accetta e i due si portano a casa